Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per sabato 4 settembre. La perturbazione giunta dalla Spagna nella giornata di venerdì investe in pieno il centro-sud dell'Italia. Avremo quindi isolati temporali pomerigliani sulle Alpi, Toscana, Marche e Sardegna, ma rovesci e temporali invece diffusi al sud finalmente e che saranno di forte intensità sulla Campania e sulla Lucania. Quindi finalmente le regioni meridionali vedranno piogge abbondanti anche in vista di una seconda perturbazione che arriverà sempre prima del 10 settembre. Per quanto riguarda le temperature massime, queste saranno intorno a 27-28 gradi sul nord Italia, 25-28 al centro-sud, 32-33 sulle isole maggiori. Ricordo che per la prima decada di settembre la media delle temperature massime sull'Italia dovrebbe essere intorno a 28 gradi.